Un episodio che in questa gara ha indirizzato il risultato e l'ha portato sicuramente dalla parte del Rimini che poi essendo una squadra in classifica in alto per meriti ha dimostrato di meritare questa classifica però sicuramente noi oggi decriminiamo per l'episodio che secondo me ci ha visti sfortunati perché l'abito stava fischiando e credo che anche avesse portato la mano al taccuino per cercare il cartellino giallo e per come abbiamo giocato secondo me abbiamo dato battaglia, non abbiamo demeritato il confronto dei Rimini secondo me non solo ci stava tutto ma ci poteva dare dell'ulteriore fiducia in questa squadra giovane che a volte difetta in qualche errore con le occhi